fratelli e sorelle ciao a tutti ben ritrovati benvenuti in questo mio nuovo video buongiorno buona giornata buon venerdì 30 giugno a tutti voi questo è il bello ma anche il brutto se vogliamo del mercato estivo perché perché quello che dico adesso tra un secondo può valere praticamente zero zero più nulla in mattinata avevo realizzato un video sulla questione dell'aurentis giuntoli era tutto pronto video renderizzato copertina fatta dovevo soltanto caricare su youtube e invece alle ore 13 meno male aggiungo è meno male ovviamente è arrivato il tweet risolutore come sempre del mitico romeone agresti che saluto ciao romeo accordo trovato accordo trovato nel pomeriggio nero su bianco de laurentis e giuntoli si separeranno ci sarà la risoluzione del contratto e dunque proprio all'ultimo secondo nei tempi supplementari veramente come ha detto romeone agresti nel suo video caricato poco fa sul suo canale è arrivata la separazione giuntoli lascia il napoli e potrà diventare a tutti gli effetti ed ufficialmente il nuovo direttore dell'area sport della juventus senza che la juve chieda deroghi deroghi alla figgc la juventus voleva evitare questa questa strada diciamo questa scorciatoia meglio così nel pomeriggio si chiude la querelle lasciatemi dire lasciatemi dire una faccenda molto stucchevole il il sunto il sunto del video che avevo fatto stamattina è che de laurentis con questa faccenda qua non è che ci ha fatto una una gran bella figura a mio modesto parere insomma cambia poco nel senso che avevo fatto del video di stamattina brutta figura secondo me brutta figura tenere un dipendente un mese un mese sulle spine liberarlo all'ultimo giorno disponibile perché poi il primo luglio inizia il mercato ufficiale e quindi giuntoli deve iniziare a lavorare no per la sua nuova società che lo stipendierà da domani presumibilmente però tenere un dipendente proprio umanamente parlando sulle spine per un mese non mi sembra sia stata una gran bella figura per quello che è il presidente della squadra neocampione d'italia che non vinceva uno scudetto da 33 anni avete fatto festa per un mese d'altronde giustamente società indicata come modello da parte del del presidente gravina no no ecco secondo me se la poteva evitare sta faccenda qua anche perché se sembra ci fosse stato già questo gentleman agreement per liberare giuntoli alla fine di questa stagione perché voleva nuove motivazioni portato lo scudetto al napoli chiaramente tu ti senti ad aver fatto il lavoro fino alla fine no veramente quindi a quel punto è chiaro che vuoi cambiare stimoli e motivazioni ripeto ripeto dato che qui parliamo di manager di manager che muovono milioni e milioni di euro diciamo che de laurentis ci ha fatto un po la figura del peracottaro è ecco in con tutto rispetto sempre in questa faccenda qua io se io non sarei stato così orgoglioso di un presidente che insomma lavora una questione del genere in questa maniera qua ecco però però ragazzi tutto è bene ciò che finisce bene addirittura un indennizzo oltre oltre ai bonus che giuntoli avrebbe rinunciato 4 oltre 4 milioni di euro buttare zielinski nella trattativa come se fosse l'ultimo veramente dei pacchi postali ragazzi ripeto a mio modesto parere a mio modesto parere da appassionato di calcio da uno che segue il calcio da 33 anni perché sono diventato tifoso della juve a 10 anni mai visto una roba del genere mai visto un dipendente che viene tenuto in scacco perché poi fondamentalmente perché va la juventus perché ha scelto la juve perché tanto è chiaro è limpido è cristallino lui chiaramente è chiaro che de laurentis si nasconde dietro il paradigma i contratti si rispettano ma tutta stata randella rende tutta stata randella napoletana è proprio il caso di dirlo perché perché giuntoli aveva scelto la juventus ma alla fine ripeto tutto è bene ciò che finisce bene nel pomeriggio arriverà il tutto posto nero su bianco con firma di un notaio e dunque a quel punto inizierà la nuova avventura di cristiano giuntoli alla juventus che noi aspettiamo manco a dirlo a braccia aperte perché è da quando è andato via marotta che noi non abbiamo in società una figura come questa una figura tra l'altro che porta il curriculum che porta giuntoli che a detta di tutti è stato insomma riconosciuto come uno dei migliori dirigenti sportivi che ci sono attualmente non dico soltanto in italia ma anche in europa quindi questa figura arriva alla juventus e adesso adesso a lui andranno in mano le patate bollenti chiaramente dei giocatori che sono in esubero alla juventus zaccaria mckenny artur le cessioni pesanti snellire non soltanto gli ingaggi il monte ingaggi ma portare fieno in cascina per futuri colpi per futuri sogni milinkovic savic e poi chiaramente rinforzare ulteriormente una juventus che che chiaramente vuole tornare a vincere in italia quale quale sfida più bella per un professionista adesso approdare alla juve approdare alla juve perché la juve è sempre la juve come dicevamo ieri e poi riportare la juve a vincere intanto in italia intanto in italia ragazzi questo è quanto il succo comunque era questo che a mio modesto parere de laurentis ha fatto veramente veramente una gran brutta figura per come ha gestito la questione giuntoli detto ciò detto ciò vi dico che in serata porterò un altro video dedicato alle juventus women video importante ma ne parliamo a parte e poi chiudo il video con un saluto che avevo fatto anche nell'altro lo rinnovo anche qui per riccardo dose per ricky e dadda i complimenti per il loro canale youtube non solo contenuti bellissimi molto interessanti molto appassionanti ma anche realizzati in maniera sopraffina a livello proprio tecnico da un amatore del genere che cerca di cimentarsi con il montaggio dei video tanta qualità bellissime le esplorazioni urbex e tra l'altro in una di queste ho visto il video stamattina stamattina mi sono recuperato live di ieri su twitch di riccardo riccardo si è anche fatto male ad un dito rischiato di fatto di giocarsi il dito mignolo della mano della mano destra veramente un incidente sul lavoro è proprio il caso di dirlo anche se ricky e dadda sono chiaramente dipendenti di loro stessi quindi buona guarigione caro riccardo e complimenti ancora per il tuo bellissimo canale youtube per chi non l'ha fatto non credo non credo perché è uno dei canali giustamente più seguiti che ci sta sulla piattaforma ma iscrivetevi al canale di riccardo dose che tra l'altro riccardo è tifoso della juve tifoso della juventus dadda è tifoso del milan loro molto spesso portano challenge calcistiche e quant'altro con la got league che sicuramente conoscete perché loro hanno portato anche una squadra in qualità di presidenti però veramente complimenti ricky e dadda due miei veramente youtubers di riferimento qui sulla piattaforma complimenti ancora per il vostro canale in bocca al lupo buona guarigione caro riccardo per questo tuo infortunio altro canto quando si portano esplorazioni urbex può accadere dato che si visitano luoghi accidentati di poter fare queste queste poter avere queste disavventure anzi viva dio a riccardo è andata anche bene è andata anche bene quindi per questo meglio così meglio così ragazzi vi saluto ci rivediamo in serata con le juventus women e come sempre fino alla fine vamos juve ancora ciao e complimenti a ricky e dadda e poi era ora era ora perché finalmente cristiano giuntoli arriverà alla juventus ragazzi a stasera sul canale del vostro postman ciao a tutti ciao 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 ciao